Ciao a tutti, siamo Gabriele Bianchi di Orgoglio Nerd e Rino Ceronte, Daniele D'Acò, sempre di Orgoglio Nerd. Siamo qui per un importante annuncio. Annuncio, sì. Dove saremo? Saremo al Castello Scaligero di Villa Franca di Verona il 13 e il 14 giugno, quindi questo weekend. Ci saranno tantissimi eventi molto molto fighi, in particolare uno ve lo segnaliamo perché è molto interessante, il Bia Super Hero Contest, di cui lui sarà giurato. Sì, insieme a Adrian. C'è Adrian Fartade, c'è Andrea Plazzi, c'è Simone Bazzanella, ci sono un sacco di ospiti interessanti. Qual è il concetto che sta dietro a questa iniziativa? Parliamo di concetti, abbiamo solo qualche secondo. Dunque, voi vi presenterete a questo evento inventandovi un vostro supereroe con un costume, con una backstory, con tutto quanto ci ruota attorno e vi presenterete ai nostri giurati. I giurati poi giureranno di scegliere nella maniera migliore, sceglieranno il vincitore di questo contesto. Valuteremo i vostri personaggi, i più divertenti, quelli fatti meglio, i più appassionanti, quelli che avranno diritto, cioè chi vincerà poi avrà diritto a... Il premio è una cosa straordinaria, ovvero il vincitore diventerà il protagonista di un fumetto, edito da Shockdom e scritto dal nostro amico Dado, che è l'autore di Maschera Gialla, per intenderci. Quindi che era un vero e proprio fumetto, un personaggio, un supereroe. Potrete diventare il protagonista di un fumetto. Se saremo buoni. Certo, chiaramente lui. Oltre a questo, ovviamente la Sagra avrà un sacco di altre iniziative, ci saranno i banchettini che venderanno la birra artigianale, cosa che abbiamo apprezzato tantissimo l'anno scorso. Noi, Orgoglio Nerd, gestiremo, aiuteremo a gestire le interviste che si svolgeranno sul palco B, ovvero quello dove ci saranno, dove verranno ospitati tutti i fumettisti importanti, ci sarà Milo Manara, ci sarà la conferenza di Shockdom, ci sarà un nostro incontro sul Comics and Science, che è il progetto che stiamo portando avanti insieme a Andrea Plazzi, ci sarà Adrian Fartade come ospite, insomma. Sarà molto interessante, il programma è molto fitto, potete andarvelo naturalmente a vedere sul sito della Sagra dei Fumetti, che è www.sagradifumetti.it, ma è veramente molto difficile. Stiamo improvvisando, è punto brr, e non lo sappiamo. Credo che sia quello. E niente, quindi speriamo di vedervi tutti lì, noi saremo lì tutti i due i giorni, sarà da sabato dopo pranzo, più o meno la fiera inizia a pranzo, e finirà domenica sera. Ci sarà un concetto di Giorgiovanni, figli di Goku, quindi sarà molto interessante. Guardate a destra e noi saremo lì. Esatto, speriamo di vederci tutti. Quanti concetti? Vero, proprio uno dopo l'altro. A presto, vi aspettiamo a vr. Vr. Ci sarà chi suonerà il recibo in quantità!